Il Presidente della Commissione Cultura alla Camera, Federico Mollicone, presente a Grosseto in occasione del Grifone d'Oro, ha annunciato che la Commissione sta affrontando il tema identitario di sostegno, difesa e valorizzazione delle città bastionate italiane e tra queste è inserita anche Grosseto. È una campagna che è partita da Treviso ma che appunto sta attraversando con l'adesione di tante città. Citeremo anche Grosseto, il Sindaco verrà in commissione e in audizione e anche a celebrare i due progetti del PNRR che riguardano i bastioni delle mura di Grosseto ed è importante perché le città bastionate rappresentano un unicum italiano nell'urbanistica, nella storia e anche proprio nell'architettura che è giusto valorizzare e difendere. Infatti ricordiamo che Grosseto insieme a Lucca sono forse le uniche città in Italia che hanno ancora le mura integre. Esatto, ce n'è anche qualcun'altra ma sicuramente quelle di Grosseto sono tra quelle meglio conservate insieme che necessitano ovviamente di interventi ed è importante che il Parlamento abbia questa visione del territorio che coniughi identità e riqualificazione, rigenerazione e valorizzazione. Grosseto si era candidata a diventare capitale della cultura, è arrivata tra le prime dieci città d'Italia ha detto il Sindaco ci riproveremo per la prossima attribuzione. Entrare nella shortlist è sicuramente sintomo di grande lavoro, di grande capacità di promozione, di valorizzazione e vuol dire che sì, ci sono grandi chance per la vittoria nelle prossime edizioni.